Oh, little hours, what the sun and the flowers. Sì, è il momento anche di dare un'altra notizia. Oggi ci sarà un'intervista molto particolare. È stata fatta al figlio di un grande scrittore, lui è Vladislav Zilpman, spero di averlo pronunciato nel modo più giusto possibile. È stato un autore grande, ha scritto questo libro che è Il pianista. Roman Polanski ne ha fatto poi un film, un bellissimo film. È una tragedia, una tragedia dello Shoah, che si risolve però per fortuna nel migliore dei modi grazie all'amore per la musica. Non voglio dirvi di più perché sentirete poi moltissimo in questa intervista al figlio Andrei. Allora, adesso però la linea va direttamente ad Andrea Balzaretti, che si trova per noi amici. È arrivato il momento di andare a vedere questa interessantissima intervista. Voglio ricordarvi che è tratta da un libro, si parlerà di un libro, Il pianista. Il pianista è un libro scritto da Vladislav Zilpman. Lui è stato perseguitato nel periodo dell'olocausto e voglio ricordarvi che tra l'altro da questo libro è stato tratto un film bellissimo di Roman Polanski. Questa sera abbiamo il piacere di parlare col figlio, il figlio di questo grande scrittore, di questo grande uomo che ha avuto questa avventura incredibile, finita per fortuna nel migliore dei modi, grazie all'amore per la musica di un tedesco. In quel momento era il nemico. Ciao Elda, buonasera agli ospiti in studio, a chi ci sta seguendo da casa, ma soprattutto un cordiale benvenuto ad Andreas Spilman, a Como in occasione della giornata della memoria che si è celebrata in tutta Italia il 27 gennaio. È stato Spilman a introdurre gli studenti comaschi alla visione del film di Polanski, Il pianista, il più recente tributo alla memoria della Shoah. Il film, vincitore della Palma d'Oro a Cannes l'anno scorso, è stato tratto dal racconto biografico di Wadislaw Spilman, ebreo polacco, musicista di talento, uno dei pochissimi sopravvissuti nel ghetto di Varsavia, padre di Andreas. Wadislaw Spilman è morto ottantenne due anni fa e il figlio è diventato portavoce e testimone della tragica odissea del padre nel ghetto di Varsavia. Buonasera, dottor Spilman. Buonasera a tutti voi. Spilman, a Varsavia su 460.000 ebrei soltanto 20 sono sopravvissuti nel ghetto. Lei è figlio di un miracolo. Che rapporto aveva con suo padre? Prima di tutto non abbiamo mai parlato a casa di queste cose. Mio padre era un padre molto amorevole e per lui, in quel periodo dove tutti persero qualche d'uno, la famiglia era molto importante. Posso ricordarmi di un'atmosfera familiare molto calda, dove inoltre ero fiero di mio padre, che era anche famoso come compositore. Le sue canzoni erano molto popolari in Polonia. Tutti le cantavano. Tutti conoscevano queste canzoni. Erano canzonette in voga, che si potevano sentire in strada. Ancora oggi tutti conoscono le sue canzoni. Lei ha scoperto per caso il libro scritto da suo padre, appunto il pianista, all'età di 12 anni. Da quel momento in poi con quali occhi ha guardato suo padre? Era un periodo speciale. Mi posso ricordare molto bene. Era verso il 68, al tempo della caccia all'ebreo in Polonia, provocato dal regime. Posso ricordare che questo libro mi sconvolse. Sino allora nessuno mi aveva detto che era di origine ebrea. Né mio padre, né quelli che mi circondavano. Non avevo sperimentato nessun antisemitismo da parte dei polacchi. Nel 68 venne questa fase di antisemitismo pilotata dal governo e allora appresi dal libro di essere un ebreo. Fu per me un periodo molto scioccante. Mi ero procurato questo libro in modo illecito. Era nascosto da qualche parte in un armadio e io l'ho lessi. Ma non potevo ammetterlo perché avrei dovuto dire a mio padre che da bambino dodicenne avevo fugato nel suo armadio. Secondo lei che cosa ha permesso a suo padre di vivere una vita il più possibile normale dopo aver visto in faccia la morte così tante volte e per così tanto tempo? Credo che sia così per tutte le vittime, specialmente per i sopravvissuti. Ognuno si cerca un compito per allontanarsi dall'argomento. Mio padre ebbe la fortuna di avere compiti importanti come musicista e collaboratore della radio polacca. Ricostruì la radio polacca dopo la guerra. Compose molte canzoni. Suonò molta musica, musica popolare. E organizzò il festival internazionale di Sopot. Fece viaggi internazionali da pianista ed ebbe una famiglia. Fece di tutto per non pensarci. Era così occupato da non averne veramente il tempo. Solo più tardi, nell'86, quando era meno attivo e si era ritirato dall'attività di concertista, a 75 anni vennero a galla i ricordi. La domanda che si pone per le persone a casa, con più tempo, è forse è colpa mia che sono sopravvissuto e chi era vicino a me no. Forse non ho fatto il possibile per salvarli. O gli altri dovevano tutti morire. Abbiamo davvero fatto tutto il possibile? La frase colpevolizzante dei sopravvissuti è perché vivo io e non gli altri? Musso tutti morire, abbiamo davvero tutto il possibile. La domanda è la domanda dei sopravvissuti. Perché vivo io e non gli altri? Lei si sente ebreo. In che cosa si sente ebreo? Non credo di sentire una qualunque appartenenza. Di sentirmi ebreo, polacco o tedesco, anche se ho vissuto vent'anni in Germania. Credo che ci si debba vedere come un essere umano e, davanti alla propria coscienza, essere responsabile di quello che si fa. Mio padre mi ha trasmesso una coscienza. L'unica cosa che mi può disturbare è se qualcosa non è giusto. Credo di venire considerato ebreo da chi mi sta intorno, da sempre. Da quando mi è stato chiaro chi sono, gli altri mi hanno considerato ebreo. Non ho problemi con questo, sono anche fiero di essere ebreo. Non credo di avere grandi rapporti con l'ebraismo. Non sono stato educato nello spirito dell'ebraismo. Mio padre era un cosiddetto ebreo assimilato, come ogni intellettuale che conoscevo. Credo che oggigiorno, specialmente fra gli ebrei che vivono la diaspora, gli intellettuali non siano credenti. Hanno perso un po' la fede in Dio, poiché è difficile immaginarsi che Dio esista dopo quello che hanno visto al tempo dell'Olocausto. Una pesante eredità, ricordare per non dimenticare. Dalla memoria può nascere il perdono? Mio padre diceva, chi non sa perdonare non è un uomo. Credo che in questa storia vi sia un particolare messaggio, portato sia dal libro che anche dal film di Polanski. Il libro venne scritto senza odio. Mio padre non odiò nessuno. Cercò invece di rispondere alla domanda, perché è successo tutto questo? Perché alla fine è stato un tedesco salvare mio padre? Tra l'altro questo tedesco aveva salvato più persone durante la guerra. Questo tedesco era un cattolico molto credente, per questo aveva visto come suo compito aiutare le persone. Questo tedesco era un cattolico molto credente, quindi aveva visto il suo obiettivo di aiutare le persone. Grazie, dottor Spielmann, per la sua preziosa collaborazione. Buon ritorno a casa a D'Amburgo e un augurio per i suoi diversi progetti, fra cui il Museo sulla Shoah a Versavia in fase di allestimento. Grazie, signora. Grazie a voi. Devo dire sicuramente una bellissima intervista, l'importanza di sottolineare il perdono come forse l'arma più forte che l'uomo ha. Credo che siamo tutti d'accordo. Io vorrei anche ringraziare chiaramente la nostra Annalisa Borghese, che è stata la persona che ha realizzato questa intervista, bravissima Annalisa. E poi vorrei ringraziare anche un'altra persona, che è Bruno Vigneri, che è stato il traduttore. Anche questo è stato un compito arduo, ma credo fatto nel migliore dei modi. Con questo credo sia arrivato il momento di tornare invece al nostro collegamento.